Il cammino della Chiesa retusia nella giornata di digiune e di preghiera per la pace. Lo scorso martedì, con la partecipazione del Monsignor Giuseppe Costanzo, alcivesco a merito di Siracusa, dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi e delle religiose, dei cavalieri del Santo Sepolcro e dei fedeli, l'alcivesco Monsignor Francesco Lomanto, nel terzo anniversario della sua ordinazione episcopale e del suo ingresso in Dioncesi, ha riletto il percorso svolto dalla Chiesa seracusana sulla scia del cammino sinodale, ha ricordato l'importanza dell'anno mariano nel settantesimo anniversario della lacrimazione della Madonna, indicandola rotta da seguire sulle orme di Santa Lucia verso il grande giubileo del 2025. Papa Francesco ha invitato tutto e un giorno di digiune e di preghiera per invocare il dono della pace nel tragico momento dei conflitti che stanno infiammando il Medio Oriente e il Nord Europa, mortificando l'umanità con una crudeltà che fa sanguinare il cuore di Dio. Venerdì 27 ottobre, a partire dalle 16.30, con la durazione eucaristica, il Santo Rosario e la Santa Messa presso il Santuario di Siracusa e i fedeli potranno unirsi al grido e alla preghiera del Papa. Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria. Con la preghiera invochiamo l'aiuto del Signore facendo leva sulle lacrime della Madonna. domenica 29 ottobre alle 18, tradizionale pellegrinaggio a piedi dalla Casa del Pianto fino al Santuario dove alle 19 sarà celebrata la Santa Messa. Il pellegrinaggio sarà svolto nel clima della penitenza invocando da Dio pace e giustizia per il mondo. I fedeli potranno ottenere il dono dell'indulgenza plenaria con la remissione della colpa e della pena confessandosi, partecipando alla Santa Messa, pregando per il Papa e recitando il credo.